Ottimizzare la rete idrica, questo l'obiettivo di una sperimentazione di nuove acque che in città ha dato il via ad un progetto pilota con lo scopo di ridurre le perdite. Il territorio comunale retino è suddiviso in 12 macro distretti. Ogni distretto viene costantemente monitorato con il telecontrollo e i dati di portata registrati vengono inviati ad un sistema centralizzato. In questa fase è dunque possibile analizzare nell'immediato l'evoluzione dei consumi delle pressioni in rete e quindi individuare con rapidità e precisione le eventuali variazioni di portata. Successivamente poi arriva l'intervento con l'azione di stabilizzazione della pressione in rete. I primi risultati sono stati evidenti. Le perdite in rete sono passate dal 50% nei primi anni di gestione di nuove acque al 32 del 2012. In assoluto nel periodo 2009-2012 sono stati recuperati circa 2 milioni di metri cubi di acqua e nel 2013 ci si appresta a raggiungere un milione di metri cubi, il corrispondente del consumo annuale di circa 6.000 famiglie. Questo ha determinato un minor prelievo dalla diga di Montedoglio dai 12 milioni di metri cubi della fine degli anni 90 agli attuali 7. A breve partirà anche il progetto di telelettura, un servizio che partirà in via sperimentale alla Marchionna entro il 2014 e riguarderà circa 800 utenze.